oh continua a fermarsi cazzarola mi fa fermare anche a me porca loca continua oh ma vi fermate dietro le curve cazzarola vi fermate dietro le curve cazzarola i russi sono buoni questi guarda lì sotto insomma insomma io nel risotto non li metto no sono i russi questi qui io neanche semina dentro lì portali che fanno sementa via ho detto lì non qui sanno di funghi però sono buoni no non so c'è una riga c'è una riga sono i cosini non sono buoni non sono buoni via statevene lì per l'anno prossimo via 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 ma tagliarlo sto cavo no eh figaro che tanto non serve più a niente che cosa può fare Grazie a tutti. 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 Eh Max, guarda quel cazzo là, sembra un bulldog. Guarda se non è vero. Sembra un bulldog con la faccia e l'occhietto. No, è un bulldog, uguale, uguale identico, un bulldog francese cazzo, quel cazzo lì sembra un bulldog francese cazzo, 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 credibile cazzo. Bello. Ups. Ups. Qua è un bulldog, qua è un bulldog. 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 Arrivederci Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.